La telefonata di Elena arrivava intorno a febbraio, diciamo. Oltre ad avermi fatto super piacere, è stata anche emozionante perché significava occuparsi in maniera organica di un'azienda. Abbiamo deciso di intraprendere nuove collaborazioni per guardare con occhi anche diversi alla storia futura della nostra azienda. Una pluralità di intenti, una pluralità di confronti è assolutamente fondamentale per poter delineare quelle che sono le linee guida strategiche per il futuro. Ognuno degli attori porta una sua lettura e ci può dare l'occasione per decidere poi in che direzione muoversi. La pluralità io la vedo come nella musica classica, come un'orchestra. Esiste un direttore ma il direttore da solo non può fare niente. Ha bisogno sempre di qualcun altro che suoni uno strumento e quello strumento non è mai abbastanza perché ne serve un altro e poi un altro e poi un altro. È solo insieme che poi c'è la sinfonia. Zucchetti è un marchio materico, è metallo. Cos è il brand dell'onirico, del sogno, dell'immersione nell'acqua e dell'abbandono. È un brand legato molto ai sensi. È tutto un discorso più aspirazionale, mentre Zucchetti è fisicamente. Per me personalmente è sempre molto bello coinvolgere in un progetto qualcuno di esterno e aspettare che ti faccia vedere qualcosa. Perché quando ti fa vedere qualcosa c'è sempre un po' di adrenalina, curiosità, emozione e poi dici bello, niente da dire, va bene così. Lavoriamo per farlo diventare reale.